Prendiamo un circuito elettrico, molto semplice, un generatore e tre resistenze, potrebbe essere una pila da un volto e mezzo e tre lampadine. Immaginiamo tre lampadine uguali, avremo sicuramente che la corrente dal più viaggia, segue il circuito, fa accendere le lampadine e ritorna almeno della pila. Perché la corrente viaggia? La corrente è per definizione un movimento di cariche positive, anche se in realtà gli elettroni vanno al contrario. Il movimento di cariche positive, quindi il campo elettrico, va da un potenziale maggiore verso un potenziale minore, quindi in questo senso è uno, due e tre che ho indicato in verde. All'interno della pila il campo elettrico sarà dal più verso il meno, però i meccanismi che permettono alla pila di generare energia sono quelli che porteranno gli elettroni dal più verso il meno, quindi le cariche positive della corrente dal meno verso il più, per cui la corrente andrà al contrario rispetto a come direbbe il campo elettrico, quindi la pila sta dando energia, sta facendo un lavoro su quelle cariche, quindi sta dando energia. Se io vado a calcolarmi la circuitazione del campo elettrico, questi quattro passi sono una linea spezzata, la circuitazione sarà campo elettrico per delta L1 più campo elettrico per delta L2 più E3 per delta L3, qui che campo elettrico e delta L sono opposti, metterò il meno, quindi E4 per delta L4. Ora E1 del delta L1, questo tratto, altro non è se non in valore assoluto la differenza di potenziale agli estremi della resistenza R1, quindi qui c'è scritto delta V1 più delta V2 più delta V3 meno delta V, perché E4 del delta L4 sono questi 1,5V, ma è delta V1 per la legge di Ohm è R1i, R2i, R3i meno delta V, questa è la circuitazione del campo elettrico. In elettrostatica la circuitazione è 0, se ugualio questo termine a 0 ottengo questa espressione che altro non è se non la legge di Kirchhoff delle tensioni su di una maglia, dove ricordo la definizione di maglia è un percorso chiuso all'interno di un circuito. Per cui la legge di Kirchhoff altro non è se non l'applicazione della circuitazione del campo elettrico ad un circuito. Ma quand'è che vale? Solo in elettrostatica. Kirchhoff vale solo in elettrostatica perché solo in elettrostatica la circuitazione del campo elettrico è 0. In generale la circuitazione del campo elettrico non è 0, quindi in generale questa espressione non è corretta. Basta che qui ci sia un campo magnetico che cambia nel tempo, produce delle tensioni indotte, la circuitazione non è più 0.